Si è parlato di lavoro, servizi sociali e famiglia durante l'incontro svoltosi a Chiara Montegulfi tra l'assessore regionale al lavoro e famiglia Esther Bonafede e gli amministratori della provincia eblea. L'incontro dibattito organizzato dall'amministrazione di Chiara Montegulfi ha preso spunto dalla direttiva sottoscritta dall'assessore Bonafede con la quale sono stati indicati i criteri per predisporre i bandi dei cantieri di servizio che impiegheranno 20.000 siciliani per tre mesi. Nei cantieri, la cui durata non potrà essere superiore a tre mesi, potranno essere impegnati soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti residenti nel comune da almeno sei mesi. L'assessore alla famiglia ha poi chiarito che nel volgere di pochi giorni, una volta emanata questa nuova direttiva, tutti i sindaci siciliani divisi in due blocchi Sicilio-Orientale ed Occidentale saranno chiamati a raccolta a Palermo e subito dopo saranno fissati termini entro i quali presentare i vari progetti. In separata sede, i sindaci, gli assessori diversi funzionali dei comuni appartenenti al distretto socio-sanitario numero 44, inoltre, avevano coinvolto l'assessore Bonafede su alcune questioni importanti per i servizi erogati da queste strutture periferiche, in particolare l'attribuzione dei fondi per far sì che il distretto possa continuare ad operare e garantire servizi finora erogati. Allo Stato attuale, la Regione non prevede alcune risorse fin quando gli altri distretti siciliani non avranno speso il budget assegnato. Avendo il distretto 44 operato con tempestività ed efficienza, ora si vede penalizzato per i ritardi accumulati dalle altre realtà isolane. In tal senso, l'assessore ha dato rassicurazione che i fondi ci saranno. Pensa, infatti, ad una rimodulazione delle risorse fin cui assegnate, in modo tale che chi non ha speso i fondi non possa tenerli in cassa. Questo criterio operativo è stato accolto favorevolmente dai sindaci del distretto numero 44 che si incontreranno nei prossimi giorni a Palermo con l'assessore Bonafede per definire le azioni future.